Allora, cari concittadini, diciamo che alla luce di queste nuove disposizioni del governo di riapertura, di ripartenza delle varie realtà, devo dire che i dati che ci arrivano dalla Prefettura segnano una tendenza positiva rispetto a quelle precedentemente dati, dati che avevano consegnato nelle precedenti dirette. Allo Stato circa 300 sono le persone interessate, 35 sono le persone interessate dal Covid, quindi un numero inferiore rispetto a quello precedente, significa cioè che qualcosa di positivo si sta muovendo e tuttavia bisogna continuare a rispettare le regole e ad essere massimamente disciplinati. Devo dire che anche questa prima settimana di riattivazione di alcune attività, faccio riferimento a quella mercatale, faccio riferimento alla riapertura della Villa Comunale e del Cimitero Comunale, ci hanno consegnato un quadro tutto sommato positivo, tutto sommato tranquillo. Ciò significa che i precedenti appelli lanciati dal Sindaco non sono rimasti inascoltati, in quanto sia l'attività mercatale nei siti individuati dall'amministrazione con qualche sporadico episodio, ma tutto sommato è andato bene. Devo dire che anche i siti individuati in questa fase emergenziale mi sembra che trovino un favore da parte della cittadinanza, dell'utenza che li sta frequentando in numero anche significativo, quindi anche quei siti che un tempo si diceva estremamente penalizzanti perché decentrati dal centro abitato, in realtà i fatti dei giorni scorsi ci fanno capire che era una leggenda, e non era verità, in quanto sia il mercato di via De Gasperi e anche quello di via Alessandrini, dalle notizie che mi arrivano, hanno una buona frequentazione. Quindi per quanto riguarda l'attività mercatale, ribadisco, i siti individuati in questa fase emergenziale mi sembra di poter raccontare alla cittadinanza una situazione tutto sommato tranquilla, tutto sommato sotto controllo, come pure per quanto riguarda il cimitero. Per quanto riguarda il cimitero, devo dire, l'ho visitato sia il primo giorno di apertura, anche questa mattina mi sono recato nell'area cimiteriale e ho riscontrato un'affluenza abbastanza tranquilla, abbastanza ordinata, si è raccontato di qualche episodio, ma tutto sommato abbastanza sporadico di assembramento, ma devo dire che alla fine tutto sta andando per il meglio così come avevamo richiesto alla cittadinanza. Devo dire che anche il cimitero, l'area cimiteriale si presenta da un punto di vista igienico-sanitario bene, abbiamo fatto un'attività di pulizia e di sanificazione importante, mi arrivano sul telefonino alcune fotografie di tombe che però non sono di proprietà comunale, quindi non è il sindaco a cui quelle doglianze vanno indirizzate, ma soprattutto i responsabili delle confraternite, le quali dopo aver edificato e venduto i loculi, ne risultano ancora proprietari e quindi tenuti alla manutenzione. E non è da escludere che questa voce di dissenso da parte di alcuni cittadini per il tramite del sindaco possano essere riportati a chi di competenza. Posso garantire che per quanto riguarda le aree cimiteriali di proprietà comunale tutte sono state interessate da una significativa attività di manutenzione e di pulizia. Per quanto riguarda la villa anche lì devo dire che negli orari fissati e con le regole che abbiamo individuato devo dire che c'è un'affluenza abbastanza disciplinata da parte dei cittadini. Le associazioni sportive, del volontariato si stanno anche attivando per utilizzare soprattutto nelle settimane a venire che sono diciamo di belle giornate anche lunghe, una fruizione di quegli spazi per attività diciamo ludico, ricreative, sportive e anche per attività terapeutiche o comunque di svago per bambini diversamente abili con quindi una disabilità e devo dire che stanno pervenendo numerose proposte da parte di associazioni sportive, del volontariato, centri ricreativi che l'amministrazione sta valutando con grande attenzione e credo che alla fine questa loro istanza verrà riscontrata con un atteggiamento di favore da parte della civica amministrazione. Mercati settimanali, voi sapete le disposizioni impartite nelle settimane scorse e di riapertura delle attività mercatali erano riferite esclusivamente ai mercati alimentari, cioè quindi soltanto a quei mercati che commercializzavano beni di prima necessità e quindi generi alimentari. Una recente disposizione della regione invece ha ampliato questa possibilità di attivazione dei mercati anche per quelli non alimentari. Questo significa che tutti i mercati settimanali, le fiere che solitamente durante l'anno si svolgono a San Zero, se prima erano totalmente escluse, invece adesso alla luce di queste nuove disposizioni del governo regionale appaiono essere consentite e l'amministrazione comunale, voglio tranquillizzare tutti perché abbiamo avuto nei giorni scorsi un incontro con le associazioni di categorie, l'amministrazione comunale è ben disposta a consentire anche a queste attività di riprendere. Non dico regolarmente perché parlare di ripresa regolare delle attività significa dire una bugia, ma quantomeno di non stare fermi, quantomeno di interrompere questa situazione di stop totale che si è registrato per due mesi e che evidentemente non è più sopportabile da parte di questi operatori commerciali. e quindi nel rispetto di quelle che saranno le disposizioni di sicurezza, di distanziamento che sono pure precisate soprattutto nella circolare esplicativa all'ordinanza del Presidente Emiliano, nel rispetto bene di quelle disposizioni di sicurezza l'amministrazione comunale è assolutamente intenzionata a consentire la ripresa anche di queste attività non alimentari. martedì ci sarà un incontro in mattinata con le associazioni di categoria, l'amministrazione comunale in queste ore sta approfondendo con la struttura, con gli uffici, lo studio, la disamina di queste disposizioni, ma l'approccio è sicuramente un approccio collaborativo, come giustamente ci deve essere. Io ho chiesto in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi collaborazione a tutti, qualcuno non tanto ha recepito, però devo dire che tutto sommato la cittadinanza ha seguito le regole. In questo momento credo che l'amministrazione debba, tra virgolette, ricambiare con la stessa moneta di collaborazione coloro i quali chiedono alla luce di queste nuove disposizioni di poter essere messe nelle condizioni di ripartire con la propria attività. Avete avuto tutti notizia? Quindi martedì c'è questo incontro per i mercati settimanali e io credo che ha una soluzione, ha una definizione con un po' di buonsenso, un po' di ragionevolezza che sempre deve ispirare ogni azione ed ogni pensiero della pubblica amministrazione, ma anche dei rappresentanti di categorie, una soluzione certamente la troviamo anche per i mercati settimanali e per le fiere che si organizzano nel corso dell'anno. Dicevo il decreto legge crescita, quello di recente emanazione da parte del governo, per la verità questa decretazione del governo non ancora è stata pubblicata e quindi formalmente non è ancora in vigore, dalle notizie che si hanno la pubblicazione si dovrebbe avere nella giornata di lunedì e quindi già da lunedì è disposizione vigente. Tuttavia, sebbene non ci sia ancora formalmente la vigenza di questo decreto legge, l'amministrazione comunale di Sansevero si è già attivata con i propri uffici per mettersi nelle condizioni di attuare quelle misure di agevolazione rispetto ai propri cittadini, rispetto ai propri operatori commerciali. Faccio riferimento alle disposizioni che sono state impartite in materia di TOSAP. Voi sapete che l'amministrazione comunale, tra le prime, consentitemi questa nota di merito, aveva sospeso tutti i tributi locali fino al 31 di ottobre del 2020. Alla luce delle disposizioni del decreto legge crescita, queste disposizioni appunto sospendono il pagamento della TOSAP nel periodo dal 1 maggio fino al 31 di ottobre 2020. Cioè lo stesso termine finale che l'amministrazione comunale aveva immaginato nella sua delibera di giunta a suo tempo adottata. Quindi significa che per questo periodo gli operatori saranno totalmente esentati dal pagamento di questo tributo. Quindi dal periodo del 1 maggio fino al 31 ottobre 2020 non sarà esigibile alcun importo per quanto riguarda l'occupazione del suolo pubblico. Naturalmente pur nell'attesa che questa disposizione di legge diventi efficace, vigente ed operativa, l'amministrazione comunale è già pronta. Nel senso abbiamo predisposto un modellino che troverete sulla pagina Miglio Sindaco, troverete sul sito istituzionale del Comune, su tutti gli altri canali di comunicazione istituzionale che in queste settimane, in questi mesi abbiamo utilizzato un modellino, cioè coloro i quali riterranno di doversi avvalere di questa possibilità potranno produrre regolarmente domanda. Verrà già da lunedì, credo, attivato un indirizzo di posta elettronica dove questo modellino, questa istanza potrà essere inviato. Vi anticipo l'indirizzo di posta elettronica. Richieste.tosap.comune.san-centrale-severo.fg.it Ribadisco, richieste.tosap.comune.san-centrale-severo.fg.it Potranno essere inoltrate queste domandine, queste istanze che dovranno essere accompagnate da una planimetria, quindi da un'illustrazione grafica dell'intervento che si ritiene fare rispetto al posizionamento di tavolini o di occupazione di suolo pubblico, verosimilmente antistante il proprio esercizio. Questo naturalmente da lunedì. Cosa significa questo? Significa che nella giornata di lunedì invito tutti, anche se è una giornata, seppur anomala, ma comunque festiva, invito tutti a non precorrere, a non anticipare questa attività procedurale di autorizzazione, quindi di seguire regolarmente l'iter autorizzativo che vi ho poc'anzi illustrato, che viene attivato con la presentazione della domanda. Se da lunedì è vigente il decreto legge, lunedì stesso potrete inoltrare le domande, da martedì potrete avvalervi appunto di questa disposizione di legge. Invito tutti a non farlo nella giornata di lunedì, ci metterebbe poi nella condizione per noi molto antipatica di dover assumere appunto comportamenti, atteggiamenti e condotti di sanzionatori o quant'altro. Quindi facciamo le cose fatte per bene, facciamo le cose regolarmente. Da martedì, dopo aver presentato la domanda, potrete tranquillamente mettere i tavolini. Naturalmente, facevo riferimento alla giornata di lunedì, lo dirò poi al termine quando parlerò della festa patronale. Lunedì, siccome la festa patronale non è stata annullata, seppur nelle forme che voi conoscete, molto anomale, molto inusuali di quest'anno a ragione della emergenza sanitaria, la festa patronale non è stata annullata. Ciò significa che il lunedì della festa patronale, come tutti gli anni, gli uffici comunali e gli uffici pubblici sono chiusi. Però questo non impedisce a chi vuole comunque svolgere la propria attività lavorativa di poterlo fare. È facoltativo, ognuno è facoltato della possibilità di poter tenere aperto il proprio negozio, il proprio esercizio commerciale, la propria attività artigianale. Quindi, da questo punto di vista, come sempre è accaduto nel resto, il sindaco di Sansevero negli anni non ha mai emanato una ordinanza di chiusura delle attività commerciali il lunedì della festa patronale, ma da contratto collettivo è previsto che i dipendenti pubblici hanno diritto alla festività e quindi alle ferie nella giornata, una giornata per la festa patronale. Quindi lunedì i dipendenti pubblici non vanno a lavorare, e questo per previsione contrattuale e non già per previsione di un'ordinanza sindacale, ma coloro i quali non sono dipendenti pubblici, possono tranquillamente restare aperti e quindi possono tranquillamente svolgere la propria attività lavorativa. Naturalmente da lunedì un po' si riprende tutta l'attività e voglio dire questo ci impone anche una riflessione rispetto agli orari. Non vi nascondo che in queste ore, anche con la tecnostruttura, con gli uffici, sto facendo una riflessione rispetto agli orari di apertura, perché è vero che tutti devono essere messi nella condizione di ripartire, ma il tutto deve svolgersi con una certa gradualità e con una certa cautela. Quindi vi preannuncio che probabilmente nei prossimi giorni adotterò un'ordinanza sindacale in cui fisseremo gli orari di apertura degli esercizi commerciali. Chiaramente si va incontro alla stagione estiva, quindi chiaramente le giornate sono molto più lunghe, c'è la bella e buona abitudine dei cittadini di intrattenersi in strada anche nelle ore serali, se non tardoserali. Le nostre usanze, le nostre abitudini le conosciamo un po' tutte. Io intendo partire anche qui con una sorta di gradualità, nel senso che so bene che è maggio e primavera inoltrate, siamo prossimi all'estate, è chiaro che nel momento in cui devo immaginare orari di apertura di questi esercizi non posso che riflettere su quelle che sono le abitudini dei sansevesi, però all'obiettivo arriviamo gradualmente, quindi con un orario di apertura serale, poi se tutto va bene, se la gente è disciplinata, se c'è una situazione di non assembramento o di calca avaria, non è da escludere che poi con provvedimenti successivi possa anche ampliare l'orario di apertura degli esercizi commerciali. Parliamo un po' delle questioni legate alle politiche sociali.